Dottor Scannapieco, dopo due anni di mandato, quali può dire che sono i punti di forza del burlo? I punti di forza sono sicuramente una storia importante. 161 anni di ospedale pediatrico e 50 anni di IRCS sono una storia decisamente importante. Io dico sempre che la storia non è un nostro merito, è una fortuna. La nostra responsabilità è guardare verso il futuro. Il futuro è già cominciato. In questo mandato abbiamo avviato delle importanti iniziative, quali per esempio la rete regionale pediatrica, il riposizionamento del burlo a livello nazionale e internazionale che la Presidente oggi ha sottolineato, sono le migliori garanzie anche di fronte a tutte le perplessità, le paure che a volte si sono agitate anche troppo su questo istituto. È forte anche l'attrazione del burlo? Sì, è giusto che sia così. Il burlo può esistere solo se attrae. Il suo territorio di riferimento è storicamente Trieste, ma Trieste oramai ha una piccola dimensione per meritarsi da sola un ospedale pediatrico. Questo è un ilx regionale della regione Fremenza-Giule, quindi che svolge la sua attività in tutta la regione, ma in alcuni ambiti abbiamo punte di attrazione fino al 50% da fuori regione. Presidente Serracchiani, possiamo dire burlo, missione compiuta in questi due anni? C'è ancora tanto lavoro da fare, però non ho potuto oggi non ringraziare il Direttore Generale, tutta la sua squadra, perché è stato veramente un lavoro prezioso quello di questi due anni. Noi gli abbiamo affidato una missione, quello di aiutarci a ricollocare il burlo all'interno di un protagonismo non solo regionale, ma anche nazionale e internazionale. Devo dire che in questo senso la missione sicuramente è importante ed è compiuta, perché oggi ci permette di dire che abbiamo non solo riconquistato quello spazio, ma consolidato preziose competenze all'interno del burlo e la possibilità a questo sì di farlo diventare centro di riferimento regionale, nazionale e internazionale. Avete affrontato anche il tema delle stabilizzazioni, lei ha detto che con la precarietà in sanità non si va avanti. No, credo che sia uno dei settori maggiormente precarizzati, credo che sia stata una scelta del passato, il blocco del Tarnoveri, pochi concorsi, il cercare di tagliare cercando appunto di limitare il costo del personale. Credo che nella sanità questo non sia utile, non sia opportuno. Non a caso noi abbiamo fatto un importante investimento proprio sul personale, 800 assunzioni tra assunzioni e stabilizzazioni. Non bastano, perché ancora molta è la strada che bisogna fare insieme. E una cosa che mi piacerebbe fare è poter dare risposte positive ad esempio a quei ricercatori che oggi si trovano senza un contratto e con il rischio di non avere un futuro. Insomma, mi auguro che anche il Parlamento e il Governo se ne facciano carico, come i presidenti di regione domani faranno in conferenza delle regioni. Grazie. Grazie.